Sotto la splendida cornice della rocca di Castelsardo, complice una bellissima giornata, si è svolta la prima prova dell'edizione 2016-2017 di Vela nel Golfo, campionato invernale di vela, ospitato dalla sezione di Castelsardo della Lega Nazionale Italiana e sponsorizzato da Beverage Sardegna di Gianni Spano. I 29 equipaggi iscritti provenivano dai vari circoli e sezioni della Lega Navale, del Golfo della Sinara, da Alghero e novità di questa edizione da Santa Teresa di Gallura, dalla Corsica con le Cercle de Voal de Bonifacio, presente con due imbarcazioni, Bianca e Raora. La classifica ha premiato le imbarcazioni minori di 33 piedi con Cheonda, Paprica, Ilia e Bianca Inversol, e Raora è a terzo posto, maggiori di 33 piedi con Leonora Duse, Alice, Assa. L'appuntamento con gli equipaggi è per il 22 gennaio del 2017 a Stintino per la seconda prova.